Lasciamo il calcio, dedichiamo la seconda parte del nostro TG Sport al golf perché questa sera abbiamo un graditissimo ospite e con noi Francesco Laporta, fresco vincitore del Challenge Tour 2019, una delle competizioni più importanti che ti ha dato proprio la carta per la partecipazione allo European Tour. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti voi. E allora raccontaci di questo 2019 per te magico, non avevi mai vinto nel circuito, quest'anno sono arrivate quattro vittorie. Sì, un anno incredibile, non ho mai vinto, sono professionista da sei anni, finalmente quest'anno è arrivata la prima vittoria a inizio anno dopodiché mi sono sciolto un po' e ne ho vinta altre tre, quindi un anno incredibile da ricordare sicuramente. Non è arrivata la vittoria all'Open d'Italia, però è arrivato un settimo posto che vale tantissimo proprio perché lì eri a confronto con i grandi del golf mondiale, grandi che poi ritroverai tra due settimane con l'European Tour. Sì, è stata una settimana stupenda, c'era tutta la mia famiglia a seguirmi, primo italiano alla fine della gara, settimo posto, un Open magico per me. Ne avevo giocati già sette, però un Open così bello non avevo mai giocato, è tutto stupendo. Che cosa comincerà adesso tra due settimane? Un'esperienza nuova, un tour ancora più importante, forse la tua consacrazione nel mondo del golf? Sì, torno sull'European Tour dopo tre anni, ci ho giocato nel 2016, torno tra i grandi, ecco. Ritorno a giocare gare importanti, torno a trovare giocatori tra i più forti al mondo, quindi sicuramente sarà un grande anno. In sovraimpressione stanno andando delle immagini che ti vedono qui ricevere anche la Coppa per il successo all'Open d'Italia, credo si tratti del tuo primo successo stagionale. Ma raccontaci quanto è dura la vita del golfista, perché magari qualcuno immagina che sia uno sport che si gioca solo di cervello, però come vediamo nelle immagini in sovraimpressione tu ti alleni tanto anche in palestra. Sì, mi alleno tanto anche in palestra, mi alleno circa sei volte a settimana sul campo da golf, dove mi alleno otto ore al giorno, mentre in palestra cinque volte a settimana, un'ora e mezza al giorno, penso che bastano. Com'è cominciata la tua vita da golfista? Giocavi a tennis da piccolo, poi come ti sei innamorato della mazza da golf? Giocavo a tennis, ho fatto sei anni di tennis, dopo che a 13 anni sono andato in vacanza in Sudafrica con mio padre, lui già giocava a golf, lì mi ha portato a prendere la mia prima lezione di golf, da lì è scoppiato quest'amore e ho continuato qui in Puglia. San Domenico Golf Club che ti ha fatto cominciare, San Domenico Golf Club a cui devi tanto così come i tuoi maestri, raccontaci un po'. Sì, è la mia seconda casa, io praticamente vivo lì da 16 anni, sono social lì da 16 anni, è un posto stupendo, tutti mi sono sempre stati molto vicini, a partire dallo staff, dalla famiglia, è un posto che per me è magico e mi riempie sempre di tanti ricordi. Il 2019 possiamo dire che è terminato, anche se lo European Tour comincerà sempre in quest'anno, a chi dedichi questi successi? Innanzitutto alla tua famiglia in primis, ma poi c'è qualcuno che ti ha seguito durante l'anno a cui vuoi fare anche una dedica speciale? Sì, in primis è la mia famiglia che mi ha sempre supportato da tanti anni, poi tutto il mio staff, ci sono due maestri di golf, Pietro Cosenza e Massimo Scarpa, mi ho preparato l'atletico Luigi Angelini, mental coach Roberto Ferrarese, nutrizionista, fisioterapista, chiropratico, c'è un bello staff dietro, quindi ringrazio tutti, tutto lo staff del San Domenico e tutti quelli che mi seguono. Se dovessi incorniciare un momento i coriandoli cinesi oppure l'ovazione in Italia? Sicuramente l'ovazione in Italia è stata importante, c'era tanto pubblico a seguirmi, però la prima vittoria su un tour importante non si scorda mai, quindi Cina. Da chi sono arrivati i messaggi più belli? Ci risulta Borca Valero, ci risultano tanti giocatori di calcio, ma anche i tuoi colleghi che giocano a golf, ne ricordi qualcuno in particolare? Beh sì, Francesco Molinari in primis, tutti gli altri colleghi che giocano sul tour, mi ha fatto molto piacere ricevere messaggi anche da altri, da stranieri che giocano sul tour, poi dai calciatori a un'altra gente importante, Donadoni, Zemaili, Borca Valero, è stato bello, sono stato riempito di messaggi, quindi mi riempi d'orgoglio questo. Torniamo un attimo indietro, come si appassiona un bambino al golf? Beh, è uno sport diverso, uno sport che si vive all'aria aperta, porta via tanto tempo, però sicuramente ti avvicina in un mondo diverso, in un mondo nuovo e a tanti bambini piace. Un messaggio per chi dovesse cominciare ad avvicinarsi adesso, sappiamo che da grandi è difficile avvicinarsi al mondo del golf, bisogna farlo da bambini per diventare qualcuno in questo sport? Beh, sì, bisogna farlo da bambini, io però ho iniziato da 13 anni, quindi adesso comunque la federazione si sta muovendo tanto, anche con il golf nelle scuole, quindi sta facendo avvicinare tanti bambini, è uno sport dove si inizia a 7-8 anni, va benissimo, è diverso dagli altri sport, c'è più tranquillità, si gioca tanto con la testa, quindi fa crescere tanto. Noi ringraziamo Francesco Laporta, li facciamo il più grande in bocca al lupo per l'inizio dello European Tour 2020, è stato veramente un onore averlo ospite negli studi di Antenna Sud.